Ma la risposta alla domanda di informazione da parte del pubblico ha finito anche per generare il fenomeno della infodemia, l'enorme flusso di notizie incontrollato e spesso incontrollabile che crea disorientamento, incertezza e ansia in molti cittadini. Basti pensare all'ingiustificata visibilità data ai virologi che si sono resi protagonisti di un susseguirsi di dibattiti frammentari, contraddittorie e confusi, con opinioni espresse e poi ritrattate, provocando il pericoloso fai-da-te dei cittadini sui loro comportamenti sanitari.